Musica Ragazzi bentornati in questo nuovissimo video Io sono Cechainato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News Ma per iniziare se non siete ancora iscritti iscrivetevi con la campanellina Lasciate un bel like, condividete questo video con i vostri amici E una cosa molto molto importante ho creato un nuovo canale Telegram Quindi vi lascio qua sotto il link nei commenti e entrate perché ogni tanto farò dei contest E magari come diciamo obiettivo che ci possiamo dare ai 200 follow facciamo un bel contest Poi lì comunque pubblico ogni volta un post che vi dirò insomma quando andrò in live Quando c'è un nuovo video quindi mi raccomando entrate E detto questo però nel video news di oggi ragazzi andremo innanzitutto a vedere ovviamente tantissimi leak Per la stagione 6, Catwoman insomma tanti tanti leak E poi soprattutto notizie importantissimi per quello che riguarda l'ombrello nuovo che potremmo ottenere gratuitamente Adesso tranquilli andiamo a vederlo nel dettaglio E lasciate mi raccomando un bel like e adesso andiamo subito a vedere tutte le news per oggi Iniziamo ragazzi con la primissima news che riguarda un nuovo stile Tweetato proprio dall'account ufficiale di Fortnite tantissimi mesi fa Che adesso è stata scoperta pure questa nuova schermata molto molto carino Ovviamente concept che come possiamo vedere vede la gente del caos con una nuovissima variante Quest'ultima ragazzi secondo i leakers potrebbe uscire presto Dato che comunque è stata trovata questa nuova diciamo schermata molto molto carina Lo vedete lo stile ovviamente quello lì alla destra Molto molto strano però dovrebbe arrivare come nuova variante in teoria per la skin della gente del caos Ovviamente in futuro Vi volevo dare anche qualche notizia per quello che riguarda questo bundle rubino versione ombra E' uno dei diciamo bundle più richiesti Infatti diciamo che un po' la community sta cercando diciamo delle news per quanto riguarda questo bundle E per il momento ragazzi sappiamo solamente che questo bundle verrà messo gratis Non si sa ancora in che modo ma verrà messo gratis E sembrerebbe secondo alcuni leakers che verrà messo gratis per un periodo limitato nell'Epic Games Launcher Quindi ovviamente dovrete accedere da PC Questo è quello che per il momento dicono i leakers Quindi per il momento sembrerebbe che si verrà messo gratis ma si potrà anche comprare Quindi insomma è un attimo da vedere Chi non riuscirà ovviamente a prenderlo gratis nell'Epic Games Launcher Potrà ovviamente acquistarlo anche nel negozio di Fortnite dentro il gioco Però sembrerebbe così infatti questo bundle probabilmente verrà messo gratis nell'Epic Games Store Nulla di confermato però Inoltre ragazzi è stata pure scoperta questa schermata Come possiamo vedere qua ci sono un sacco e dico un sacco di skin ufficiali di Fortnite Alcune scartate ma alcune potranno arrivare in futuro Tra le più interessanti ovviamente possiamo vedere una versione di Goof Quella skin molto simpatica che è uscita tra l'altro anche oggi nel negozio oggetti Versione natalizia Poi possiamo vedere anche una skin che assomiglia un sacco alla deriva ma versione lupo Insomma vi lascio qui vedere questa immagine Sono ovviamente concept ufficiali di Fortnite Alcuni scartati ripeto alcuni potranno arrivare in futuro come skin Andiamo a vedere anche Catwoman ragazzi Il suo bundle è stato decriptato ieri verso la sera se non erro Come possiamo vedere questa alla mia destra è la skin come si presenta insomma nei file di gioco E invece alla mia sinistra trovate invece come si vede all'interno del game Molto molto carina ripeto uscirà il 18 maggio Il costo invece non si sa ancora al 100% però essendo nei file come skin rara Perché come possiamo vedere non ha un backpack quindi è una skin rara Come ben sappiamo le skin rare costano 1200 di bucks Molto probabilmente anche lei costerà esattamente 1200 di bucks E non 1500 perché non c'ha nessun tipo di backpack Parliamo anche un po' di Fortnite e Apple Perché infatti sappiamo benissimo che stanno facendo un sacco di udienze in questo periodo Ma come possiamo vedere l'udienza finale del caso Epic Games contro Apple si terrà il 21 maggio E invece la decisione del giudice l'avremo esattamente pochissimi giorni dopo Ovvero il 24 maggio Decisione che confermerà insomma o ribalterà il risultato Perché diciamo che potrebbe benissimo tornare come potrebbe non tornare E intanto è finita ragazzi la settimana di fuoco Come ben sapete infatti siamo ormai entrati nella nuovissima settimana Per quello che riguarda il tema acqua Infatti ragazzi come possiamo leggere a partire da ora Per una settimana intera si potrà insomma pescare molti più pesci Le armi che si troveranno sott'acqua saranno pure aumentate Quindi potrete trovare molte più armi Insomma molto più loot a tema pesci e robe del genere Ovviamente anche questa durerà una settimana come lo è stata per la settimana di fuoco E poi ci sarà un'altra nuova settimana Adesso andiamo a vedere però la nuovissima modalità Con cui potremo proprio ottenere il deltaplano L'ombrellino gratuitamente nel nostro armadietto Vi metto innanzitutto questa immagine qui alla mia destra Come possiamo vedere ecco le icone che saranno usate per la MAT Quindi la modalità fuga impossibile Sarà pure una modalità per il mio molto molto carina Perché secondo quello che si è capito insomma dovremo Anzi abbiamo questo obiettivo di ricostruire un elicottero Sembrerebbe E scappare insomma da quest'isola Quindi ci dovremmo in poche parole salvare Una modalità insomma a tema survival E sì dovremmo ricostruire un elicottero Perché come possiamo vedere qua in questa modalità Saranno presenti delle parti dell'elicottero Che dovremmo cercare credo sparse Nell'isola in cui staremo E una volta che avremo trovato tutte le parti Si potrà costruire questo elicottero Che credo servirà ovviamente per scappare dall'isola E quindi salvarsi e automaticamente vincere la modalità Infatti come possiamo vedere da questa schermata di caricamento Che anche questa si dovrebbe ottenere gratis Vincendo una partita in questa nuova modalità In teoria non è confermato Però dovrebbe Dato che è una schermata di caricamento E non credo che la metteranno in V-Bucks E come possiamo vedere Possiamo vedere insomma la skin di salva al mondo Che sta cercando di ricostruire Di aggiustare questo elicottero Come possiamo vedere Ci sono anche i veloci Raptor Molto molto carina come schermata di caricamento Ci fa intuire ovviamente Che questo sarà l'obiettivo principale della modalità Quindi ricostruire insomma Riparare l'elicottero E abbiamo ragazzi anche delle musiche ed effetti Proprio esclusivi per questa modalità Ad esempio risveglio sulla spiaggia Molto probabilmente infatti ci risveglieremo in una spiaggia Da quello che si capisce qua Ci sarà il giorno e la notte Ciclo notte giorno Sfida accettata, completata Vabbè ovviamente per il completamento delle sfide Musiche di tensione e ambiente Probabilmente delicate quando ci avvicineremo a un veloce Raptor O qualcosa insomma di pericoloso Animali e nemici saranno ovviamente presenti nella mappa Parti trovate e installate Quindi le parti dell'elicottero che dovrete installare E poi nuovi effetti della pistola a razzo Quindi insomma avremo una modifica anche per quanto riguarda quell'arma Adesso andiamo a vedere come si potrà ottenere invece questo bellissimo ombrello Che vedete proprio qui alla mia destra Devo dire che è uno dei migliori ombrelli che hanno fatto su Fortnite È veramente bellissimo, molto semplice Fatemi sapere cosa ne pensate E ovviamente questo lo otterremo gratuitamente Semplicemente giocando una partita E vincendola nella nuova modalità Che vi ho raccontato giusto qualche minuto fa Quindi fate una partita La vincete e automaticamente dovreste ricevere Sia la schermata di caricamento Che questo bellissimo ombrello Questo è confermato al 100% Quindi fatemi sapere cosa ne pensate Per il mio veramente molto molto carino Uno dei migliori sicuramente Detto questo ragazzi per il video di oggi è tutto Mi raccomando un bel like Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto Condividete insomma il mio canale Telegram Ripeto qua sotto nei commenti Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video News barra previsione Insomma vedremo quello che ci sarà E niente ragazzi ci vediamo poi live su Twitch Stasera alle ore 20 Bella E niente ragazzi ci vediamo poi live su Twitch E niente ragazzi ci vediamo poi live su Twitch E niente ragazzi ci vediamo poi live su Twitch E niente ragazzi ci vediamo poi live su Twitch E niente ragazzi ci vediamo poi live su Twitch E niente ragazzi ci vediamo poi live su Twitch